Sopralluogo ieri presso il cantiere dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. A partecipare il deputato Piero De Luca, il presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone, il consigliere provinciale con delega ai trasporti Rosario Danisi, i sindaci di Ponte Cagnano-Faiano e di Bellizzi ed i referenti della società di gestione Gesac. Il sopralluogo è stata l'occasione per fare il punto su alcune attività correlate all'assistenza a terra ai passeggeri, come ad esempio i servizi di trasporto pubblico ed il servizio taxi. In particolare si sta lavorando per creare le condizioni affinché, a partire dal prossimo mese di luglio, i passeggeri che arriveranno possano soffrire di linee di trasporto pubblico dedicate ed un servizio taxi adeguato. Ormai ci siamo quasi, i lavori procedono regolarmente ancora qualche mese e finalmente partiranno i voli dall'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Ora siamo fortemente impegnati anche nell'organizzazione dei servizi, in particolare di trasporto, ha dichiarato l'Onorevole De Luca.